Movida Locca Television In questo nuovo locale targato Movida Locca Television Gemming Club con le minei Napoli Grazie a tutti! 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 Di un centro benessere ed estetico, relax e benessere. Che vi consigliamo? Certo. Per adesso è ancora via delle porcellane, ma fra qualche giorno? Viale Colli e Minei 461. E allora è un consiglio mio di Movita Local Television, io ti ringrazio per avermi invitato. Prego. E ci vediamo tutti quanti da Relax e Benessere, Viale Colli e Minei 461, a breve, non adesso. Ma non vi dimenticate, Jamming Club, un club di esclusiva. Movita Local Television continua.